Ciao ragazzi, ciao a tutti, ho fatto un nuovo account Roblox e adesso vi faccio vedere i regali che mi vogliono fare queste 1, 2, 3, 4, 5, 6 fan Iniziamo, allora, loro si sono già messe in fila per bene e la prima è BabyVGF Quindi adesso, BabyVGF Ciao Alsea, sono Bea, ti prego salutami nel video please Ok, un bacione Bea Ti mando un grandissimo bacione e grazie per il tuo regalo, qualsiasi esso sia Perché comunque, cioè, oh grazie, alla fine non ce l'ho perché in questo momento i miei pet sono questi Non sono niente di più, niente di meno, quindi Anzi, grazie, grazie veramente mille, grazie veramente mille Grazie davvero tanto E lei ci dà uno snowcat Il regalo Un sun balloon In poche parole Grazie Ah, è anche un panino Grazie perché queste due cose comunque mi mancavano E le accetto anche queste con immenso piacere Spero che quello shark che vedo nello sfondo non sia per me perché è veramente tanto Quindi grazie a Yaya Dark Tranquilla Tranquil E grazie Ciao Asia Aspettate, no Sono Emy Sono Emy, ti prego accettami l'amicizia Emy tabiscotto Emy Sì, ti accetterò Grazie il mero corso Quello che piace a me La... Come si chiamava? Fennec Fox Il guinzaio a pianeta Il tamburello Tamburo E poi basta Ecco, anche questo Veramente lo accetto con immensissimo piacere Perché il mero corso Sapete quanto mi piaccia Quindi Grazie, grazie, grazie Piccola E sì, ti accetterò la richiesta Tranquilla Appena esco dal server Ti accetto subito la richiesta Oggi usciranno tre video Quindi preparatevi Poi abbiamo Asia, sono Gaia Puoi salutarmi? Grazie Certo Ciao Gaia Un bacione Tra l'altro queste due Chiara e Gaia Sono delle sorelle Infatti le saluto tantissimo A tutte e due Perché sono delle fan Molto Ma molto accanite A me Quindi grazie Veramente Vi voglio bene Abbiamo Scusate Mi sono distratta Abbiamo tre Potion Tra la quale Hyper Speed Potion Big Head Potion E Anti Gravity Potion E poi anche il Armin Trainer Float Cioè quella sediolina gonfiabile Che ti fa galleggiare Ecco E il E il Bee Pride Pin Un'altra Big Head Potion Una mela No la mela no Una mela Una mela E basta Grazie Gaia Un bacione Anche a te Accetto tutto questo Con immenso piacere Anche perché le pozioni Comunque mi potrebbero servire Per fare qualcosa Quindi grazie Mille Gaia Grazie 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 mille Poi abbiamo Chiara Ciao Asia Ciao Youtube Ciao me del futuro Asia mi spiace molto Che stai Partendo Per la Seconda volta Da zero Ma spero Aspetta ma spero Con i regali dei fan Diventerà Erika Questi regali Fanno schifo Di più Ma Spero ti piaccia Puoi Salutarmi Sono Chiara Come sempre Ciao Chiaretta Già ti avevo salutato Prima Quando mi ha fatto Il tre di sua sorella Però ti risaluto Tranquilla Qualsiasi regalo Tu mi starei facendo Io Lo accetto Con immenso piacere Perché comunque Cioè non ho Praticamente nulla Quindi in questo momento Anche se mi regalate Un cane Normalissimo Io veramente Lo accetto Con tantissimo piacere Quindi Tranquilli Mi da Un otter Un anti Gavity Potion Un anti Gavity Potion Due big head Potion E due Hyper speed Potion Quindi grazie Tesoro Grazie Per i tuoi regali Oggi Non eravamo Tantissimi Però Diciamo Io ho voluto Registrare Per rendere Anche felici Comunque I fan Perché volevano Grazie Mille Oh Chiara Mi ha fatto Un altro trade Pensavo Avesse finito Ah Un altro Tre altre Hyper speed Potion Due altre Big head Potion Ha definito Ok Di pipette Axolotl Flamingo Ciao Se mi saluti Mio nome Marina Please Certo Non ho capito Che cosa Gli è successo A Chiara Perché Ha messo Una faccina Triste E tre puntini Intanto Grazie Mari Marina Cioè Io Adesso Vado Da più Presto Da Chiara Perché Non ho capito Che cosa Le è successo Non ho capito Assolutamente Che cosa Gli è successo E questa cosa Non mi piace Vorrei capire Cosa Gli è successo Ehi Ha scritto No In un altro Tede Sta volendo Dei giochi Ma ha declinato Tranquilla Si Asia Forse Mi sono decisa Scusa Ma no Ripeto A sei anni Adoro Asia Grazie E allora Ragazzi Questo video Di regali Si conclude Qui Oggi Ho deciso Di fare Tre Video Perché comunque Questo qua Dei regali Non lo considero Non perché Non sia importante Per me Anzi Perché comunque Come vedete Già i pet Mi sono aumentati Abbastanza Ma semplicemente Perché è veramente breve Poiché eravamo Pochi Perché ancora Ho accettato Veramente poche richieste Quindi Adesso vi saluto E vado a registrare Subito Subito Un altro Video